Cos'è la polis? Con il termine polis si indica la città dell'antica Grecia. La differenza fra le città di adesso e le città greche sta nel fatto che la polis era autonoma, era polis in cui vi era la democrazia, erano polis in cui c'era una forma di governo oligarchico, c'erano polis in cui c'era la tirannia, ogni polis aveva la sua forma di governo adeguato, quindi ogni polis aveva le sue leggi. Ciao al prossimo video, vi aspetto! Ciao! 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 Ciao!